Oggi è 23 luglio 2016 e stiamo andando a Finale Ligure da Mario Valente che ci parlerà di Luigi Veronesi. Voglio parlare un attimo di Rimoldi perché quando lo conobbi a Francoforte mi disse ti interessa fare grafiche con Veronesi? E io gli ho detto edizioni e io ho detto sì mi piacciono grandi e lui mi ha detto non c'è problema. Quindi mi fece conoscere Luigi Veronesi che abitava in un appartamento a Milano. Lui faceva anche questi quadri enormi. Sì sì, ma si arriva sulla sedia. La scaletta, la scaletta. Aveva la scaletta per dipingere per i grandi. Lui era piccolo, era un bacio. Ah scusa vai avanti. Un aneddoto su Veronesi ce l'hai? Luigi? Sì. Allora Luigi Veronesi era un nuovo piccolino ed era partigiano. San Vittorio Olona sai dov'è no? Lombardia. Lombardia sopra Milano. Lui aveva una, in Duno Olona perdoni, in Duno Olona. Aveva una casa lì, non so se apparteneva alla moglie o qualcuno comunque, e andava lì in vacanza. Mi c'ha anche invitato qualche volta. Ma la storia è che lui essendo partigiano, partigiano di spirito, non è che fosse combattente, e a certo punto c'erano anche dei pericoli perché eravamo in tempo di guerra. E allora tornava a Milano a studio, però si muoveva, ed era innamorato della Ginetta. Non so se l'ha già sposato o meno, comunque forse era già sposato. Solo che lui pesava 50 kg e tutto. La Ginetta pesava 85-90 kg. Non essendoci treni, comunicazioni, sai cosa ha fatto il buon Luigi? Ha caricato la Ginetta sulla canna della bici, è andato a fare 30 km finendo una lona. Questo per sfuggire i pericoli, i trasporti normali. La Ginetta sulla canna, poi io scherzavo sulla canna, ma non fa niente. Questo era il Luigi Veronesi. E poi aveva questo sogno, anche un altro eterno bambino, il fatto di salire su una scaletta per dipingere un quadro di due metri per due metri. Era normale, perciò era l'angioletta che andava a rifare il suo mondo interiore con delle immagini che partivano appunto da un certo tipo di geometria, però molto poetica, degli anni 70 hanno questa raffinata poesia. E il resto, tutta la sua struttura, diciamo l'arte concreta di Veronesi, ha sempre una vena poetica dentro. Infatti i Vresi non ti stancano mai. Questa è la forza dei quadri. O dell'arte, se vogliamo. Quello che ti fa entrare nel quadro, ti fa pensare e ti lascia bene. Grazie a tutti.